Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Oggi ci immergeremo nel mondo della sicurezza per moto e scooter, esaminando con attenzione i migliori bloccadisco disponibili sul mercato nel 2024. La protezione del nostro veicolo è di fondamentale importanza, e questi dispositivi antifurto possono davvero fare la differenza tra la tranquillità di una moto al sicuro e il rischio concreto di furto. Senza ulteriori indugi, esploriamo insieme queste opzioni di sicurezza premium. Cominciamo con il numero 8, l'Urban UR6 bloccadisco moto. Questo dispositivo offre un allarme high-tech con una potenza acustica di 120 decibel e dispone di una sensibilità A e per garantire una maggiore sicurezza. Dotato di LED warning e di una batteria a litio CR2 a lunga durata, questo lucchetto antifurto è adatto a moto, scooter e biciclette elettriche, offrendo una protezione affidabile in ogni situazione. Passiamo ora al settimo posto con l'Urban Security 999 lucchetto antifurto moto. Questo bloccadisco di alta sicurezza emette un allarme potente da 120 decibel e dispone di una doppia chiusura per offrire una protezione extra. Omologato secondo lo standard di sicurezza Security Rating approva l'SRA e realizzato in Europa. Questo dispositivo è prodotto in conformità agli elevati standard di sicurezza e affidabilità che ci si aspetta da un marchio di qualità. Proseguiamo con il sesto posto, occupato dal Radical RK14S lucchetto antifurto moto. Questo bloccadisco è dotato di un allarme sonoro da 120 decibel e di un sistema di warning pre-allarme progettato per scoraggiare i potenziali ladri. Omologato secondo lo standard SRA e realizzato con materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, offre una sicurezza premium per moto e scooter, proteggendoli in modo efficace da tentativi di furto. Passiamo ora al numero 5, l'Artago 30X14 prezioso bloccadisco moto. Questo dispositivo è dotato di un allarme Don't Touch da 120 decibel ed è omologato SR Assault Secure Gold. Con un sistema di doppio bloccaggio e realizzato in acciaio temprato, offre una resistenza e una affidabilità elevate, garantendo la massima protezione per la vostra moto o scooter. Procediamo al quarto posto, dove troviamo l'Urban UR85120Y antifurto. Questo bloccadisco compatto ma robusto presenta dimensioni di 85 x 120 mm. Con un design resistente e affidabile, offre una protezione efficace contro i tentativi di furto, garantendo la sicurezza del vostro veicolo in ogni situazione. Al terzo posto, incontriamo l'Artago 68 T150 catena antifurto moto, un dispositivo versatile che offre una doppia funzione di bloccadisco e catena antifurto. Approvato secondo lo standard Sold Secure Gold, offre una sicurezza massima e una protezione completa per la vostra moto, consentendovi di dormire sonni tranquilli anche nelle zone più a rischio. Salendo sul podio, al secondo posto troviamo il kryptonite bloccadisco New York Liberty, un lucchetto antifurto di alta qualità con un design robusto e affidabile. Con la sua costruzione resistente agli attacchi, rappresenta la scelta ideale per chi cerca una protezione solida e duratura per la propria moto o scooter. Infine, al primo posto, abbiamo l'Abus 48 736 bloccadisco meccanico, un dispositivo semplice ma efficace che offre una protezione meccanica affidabile. Con un design intuitivo e una facilità d'uso, rappresenta una soluzione pratica e conveniente per proteggere la vostra moto o scooter da tentativi di furto. Qual è il vostro bloccadisco preferito tra questi? Fatecelo sapere nei commenti! Trovate tutti i link ai prodotti menzionati nella descrizione del video o nel primo commento. Grazie per aver seguito il nostro video sui migliori bloccadisco per moto e scooter del 2024. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità e recensioni. Alla prossima!